C'è un po' di rammarico ma sappiamo che i play-off sono un po' strani, ogni gara è diversa quindi mi aspetto che anche quella di sabato lo sarà. Abbiamo riposato, ieri abbiamo staccato soprattutto a livello mentale perché abbiamo fatto comunque una seduta a pesi e nella pallavolo può succedere di tutto. Si vede anche nel maschile che il fattore campo non è sempre stato determinante nelle loro semifinali, quindi non lo escludo, lo possa essere anche per noi. Si batte, si può battere, sicuramente mettendo in campo la nostra migliore pallavolo. Di Correllano sicuramente è difficile gestire Asha quando ha palla in mano e quando decide di giocare un po' con tutti i giocatori, non solo con Paola perché penso che le misure su Paola le abbiamo prese e poi quando lei decide di ovviamente passare sopra il muro non ci possiamo fare niente. Dobbiamo sicuramente arginare un po' gli altri attaccanti che appunto Conegliano ha messo a fatto vedere che può giocare con tutti. Si, sicuramente battere bene lo stiamo facendo, abbiamo anche difeso sicuramente moltissimo e dovremmo continuare a farlo. Credo che ci sia un po' mancato l'essere ciniche quindi quando abbiamo la possibilità di chiudere il punto, di farlo e niente, quando possiamo sfruttare alcune loro situazioni meno brillanti appunto di approfittarne.